Sono stati arrestati dai carabinieri i due presunti autori dell'agguato avvenuto domenica sera sul lungomare di Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta, Andrea Trani. Si tratta di Emanuele Riondino, 24 anni, e Michele Santarella, 20, quest'ultimo di Trenitapoli, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Dopo la sparatoria si era scatenata una vera e propria caccia all'uomo, Riondino e Santarella devono rispondere del tentato omicidio del 39enne Gaetano Lamonaca. I due, a bordo di uno scooter scarabeo senza carena e senza targa per renderlo irriconoscibile, hanno prima effettuato un sopralluogo per verificare la presenza della vittima, poi, tornati sul posto armati di pistola, hanno esploso sei colpi calibro 9, due dei quali hanno raggiunto la monaca all'addome ed uno alla gamba. I due sicari si sono poi allontanati per le vie di Margherita, facendo perdere le proprie tracce. I militari della compagnia di Cerignola hanno acquisito le immagini di alcune videocamere di sorveglianza individuando la via di fuga e la dinamica dell'agguato. I colpi sono stati esplosi contro un gruppo di quattro persone che erano sulla piazzetta, tra cui il figlio di un noto pregiudicato dedito al narcotraffico che in quel momento si trovava vicino al ferito. Nonostante le precauzioni prese per modificare il motorino, Gli investigatori sono riusciti a risalire al modello e il cerchio si è cominciato a stringere intorno ai due sicari grazie alle riprese video, al modello del mezzo, alle testimonianze, alle rivalità fra gli spacciatori, all'arma utilizzata. I due presunti responsabili sono stati rintracciati, il primo nella sua abitazione, il secondo, mentre già a bordo di un'auto, si stava allontanando da Margherita. Gli investigatori hanno anche rintracciato il luogo in cui i due arrestati avevano nascosto lo scooter e bruciato i vestiti utilizzati nella sparatoria. Il nascondiglio era costituito da un casolare abbandonato situato nella periferia di Margherita di Savoia. Sotterrata in un giardino attigo all'immobile, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato l'arma del delitto, una replica di una beretta 85 con la canna modificata. I due indagati sono stati sottoposti anche alla prova dello stub per verificare la presenza di residui di polvere da sparo. Il movente sembrerebbe riconducibile a contrasti per il controllo della piazza dello spaccio di droga. La monaca, sottoposta a intervento chirurgico per estrarre i proiettili, è fuori pericolo di vita. Riondino e Santarella sono stati rinchiusi nel carcere di Foggia.